Carri e sfilate che tornano in piazza, un antipasto a teatro, una maschera cittadina che viola l'intoccabile terreno del vicino maxievento fanese. È un carnevale dei ragazzi che nell'anno di Capitale della Cultura si ripropone in grande stile nel centro di Pesaro. Una 67esima edizione presentata oggi in municipio con occhi all'appuntamento di domenica 11 febbraio, ma non solo. Divertimento, sfilate, gioia per i ragazzi ma anche per gli adulti. A livello organizzativo quest'anno avremo la possibilità, grazie al sindaco Ricci, di ritornare in piazza del popolo. Quindi faremo partenza piazzale Carducci, due giri e mezzo, con il finale grande in piazza del popolo per gli ultimi lanci e per la proclamazione del vincitore. Infatti c'è la grande novità del 2024, Pesaro Capitale della Cultura, anche il Carnevale doveva avere qualcosa di nuovo. Quindi la sfilata partirà da piazzale Carducci e si concluderà in piazza del popolo con il grande palco che farà da sfondo a questa 67esima edizione. Sono tante le parrocchie che parteciperanno e anche delle allegorie fuori concorso che hanno chiesto, come anche altri anni, di poter essere presenti. Sono nove le parrocchie, un carro che sfilerà e gli altri sono tutte sfilate a piedi. Per l'occasione di Pesaro Capitale il Carnevale organizzerà anche un antipasto teatrale realizzato dall'Aratorio Santa Maria Assunta di Montecchio che andrà in scena questa domenica 4 febbraio al Teatro Sperimentale. Quest'anno finalmente si propone uno spettacolo al Teatro Sperimentale che inaugura le celebrazioni carnevalesche. Questo spettacolo poi viene da Vallefoglia che, come tutti sanno, è il cuore del mondo dopo che c'è stato il Presidente della Repubblica. E quindi diciamo che è una novità in più per far diventare il Carnevale non solo un giorno ma veramente un periodo. Non dico che vogliamo fare come Venezia però ci allarghiamo un po'. Carnevale pesarese che quest'anno vedrà Rabachen anche protagonista di un inedito sconfinamento nel vicino Carnevale di Fano. L'ente carnevalesca di Fano ha l'abitudine e la consuetudine di creare un sindaco per la città del Carnevale nel periodo giovedì e martedì grasso. Quest'anno il tema del Carnevale di Fano è il disturbo. Quale maggiore disturbo per i fanesi? Avere un sindaco pesarese. E quindi hanno chiesto a Rabachen di essere sindaco per quella settimana del Carnevale. Il giovedì grasso alle 18 il sindaco di Fano, quello effettivo, il signor Seri, mi cederà le chiavi della città. Poi avremo l'occasione del 12, lunedì 12, di un consiglio comunale alla presenza di un assessore di Fano, un assessore di Pesaro con dei nomi degli assessorati un po' particolari e due bambini per altri assessorati. E io sono sindaco in questo consiglio comunale. Serio? Faceto? Boh, forse finirà tra luce vini e vino senza litigare tra Pesaro e Fano. Come dicevo prima in conferenza stampa, la mia campagna elettorale è stata con lo slogan Pizza Rossini, Borodetto e Moretta, vita perfetta. Grazie. Grazie a tutti.